Settimo capitolo. Selene. Mi gira la testa. Che ore sono? Tiro fuori una mano da sotto le coperte. Cerco attentone il cellulare sul comodino. Tocco qualcosa di viscido. Non voglio sapere. La lampada? No, non mi serve. Eccolo, trovato. La mia testa esce dal lenzuolo come se fosse una tartaruga che si risveglia dopo un lungo letargo. Una cosa non troppo distante dalla mia situazione attuale. Sblocco lo schermo. La luce mi colpisce come uno schiaffo in faccia. Sono le tre del pomeriggio. Merda. Ho dormito tutto il giorno. Ricordi confusi della sera precedente si accavallano facendo pugni nella mia testa. Sono uscita con Kate. Credo di essere finita a letto con Kate. Merda. 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 Mi metto a sedere. Un senso di nausea mi attanaglia lo stomaco. Io non reggo l'alcol. Perché ho accettato di uscire? Sapevo come sarebbe finita. Forse ho accettato proprio perché lo sapevo. O ci speravo. Mi alzo barcollando. Ho gli occhi ancora appannati per la sbronza. Non sento rumore in casa. La tv è spenta. Nessuno che passa l'aspirapolvere. Mia madre non c'è. Meglio così. Non mi aspettavo nemmeno di trovarla. Cammino ondeggiando verso il bagno. Mi appoggio allo stipite della porta. Non ci sono finestre. È tutto così soffocante. La luce bianca delle lampade al neon. Cado carponi davanti al water. Provo a sboccare. Dal mio corpo. Non esce niente. Sto di merda. Non dovevo. Scusami. Per favore. Non mi sarei dovuta alzare. Dovevo rimanere a letto. Protolo sul tappeto del bagno. Sembra ciubecca. Mamma e i suoi acquisti del cazzo. Non mi piace. Non lo voglio. In Euno sono pugnali negli occhi. Perché sto così? Le palpebre lottano per stare aperte. Non posso dormire ancora. Devo prepararmi. Devo lavorare stasera. Ho saltato la lezione. Ceci sarà preoccupata. Scusami Ceci. D'un tratto i miei occhi si chiudono. Le palpebre hanno perso. Cazzo. 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 Sono in ritardo. Dovrei essere al lavoro almeno da 40 minuti. Non voglio sentire la ramanzina del capo. Non è proprio giornata. Mamma non era ancora tornata quando sono scesa. Sta morendo di fame, ma non ho tempo di fermarmi. Mangerò più tardi, forse. Corro più veloce che posso. Mi manca il fiato. Non mi sono ancora ripresa del tutto. Non dovrei stancarmi così. Ma che glielo spiega quel rompipalle? Ho dieci messaggi ancora da leggere. Di cui sette sono di Ceci. Uno mi pare fosse di Cate. Non riesco a ricordare cos'è successo ieri sera. Non voglio aprire il messaggio. Non voglio sapere cosa ha da dirmi. Forse è per questo che sto così male. Non avrei dovuto. Caterina è fidanzata. Con una ragazza che conosco da anni, poi. Sono proprio una merda. No, non lo sono. Era ubriaca. Non volevo. Non dovevo. Lei ha insistito. Io volevo solo un drink, solo staccare un po'. Ma so che non è vero. Devo smetterla di mentire a me stessa. Non funziona. Mi scamo sempre. E le ramanzine che mi faccio da sola sono peggiori di quelle che mi aspettano al di là di questa porta. Dietro la vetrina, il ristorante è già imballato di gente. Sospiro. Poi metto sulla mia migliore faccia da cucciolo bastonato e apro la porta, che tintinna annunciando il mio ingresso. Metà del locale si gira a fissarmi. Si va in scena. Non sono mai stata brava nei rapporti umani. Sarà perché la mia vita è un casino del cazzo. Sarà perché non ho nessuna voglia di parlare con persone che hanno un cui sotto la media consentita per aprire bocca. Sarà che più probabilmente non mi ritengo una persona così interessante con cui avere a che fare. Dopotutto, l'unica ragazza che mi sia mai davvero piaciuta non fa altro che venire a letto con me per poi sparire il giorno dopo. Conoscendola, tra un mesetto tornerà, pronta a buttare merda sulla sua ex che non riusciva a capire il suo bisogno di attenzioni. E la cosa peggiore è che so già come andrà a finire. Le relazioni non sono il mio forte. Eppure su internet è tutto diverso. Basta seguire una persona su Instagram per scoprire cosa fa ogni giorno della sua vita. Dove va in vacanza, cosa mangia, con chi esce. A volte nelle bio qualcuno mette anche il proprio orientamento sessuale. Forse è un invito a farsi avanti. O forse è un modo di combattere il bigottismo latente che sembra non voler abbandonare nemmeno la rete. Insomma, le relazioni sui social sono diverse. Tutto viene trasformato in una serie di codici e parole accuratamente scelti per non fare una misera figura di merda. Ti basta lasciare un like a una foto per apprezzare una persona, senza dover stare lì a dirglielo e a spiegarle quanto ti piace. A che serve se puoi lasciare un cuoricino? Nonostante tutti questi ragionamenti, continuo a fissare lo schermo del mio cellulare. Fino a pochi minuti fa stavo cazzeggiando tranquillamente su Instagram, scorrendo come al solito le centinaia di profili, alla ricerca di qualcuno che potesse assomigliare anche solo vagamente a quel volto del cazzo, quando improvvisamente mi sono imbattuta nel suo profilo. Diciamo che non mi ci sono proprio imbattuta. Diciamo che ha mitragliato ad un centinaio di mi piace le mie foto. Diciamo che ho spiato il suo profilo per un quarto d'ora buono. Ha una faccia simpatica. Magari dovrei seguirla. Apro il suo profilo per la decima volta. Rileggo la sua bio. Fuori sede. Accademia di belle arti. Sembra interessante. Sto per cliccare il tasto azzurro Segui quando il mio io interiore decide di stamparmi un ceffone sul viso. Lascio il cellulare. Quasi scottasse. Tanto non mi scriverebbe. E non lo farei nemmeno io. Che senso avrebbe? Il cellulare giace abbandonato sul mio letto. Instagram è ancora aperto. Guardo il cerchio colorato attorno alla sua foto profilo. Chissà che storie smette. Chissà se è una di quelle che posta foto dei cibi prima di mangiarli o immagini del cielo citando frasi di canzoni famose. Scuoto la testa. Ma che cazzo me ne frega? Ehi! Porca miseria! Ci ha messo meno di un mese questa volta sta stronza. Butto a terra la cicca. Era a metà. Mi è passata la voglia. C'è già Kate che mi avvelena abbastanza. Non ho bisogno di altro. Ceci cammina vicino a me. Purtroppo il mio gesto non è passato inosservato. Raccoglie il mozzicone e lo butta nel cestino più vicino. No, non ti ci metterei anche tu, eh. Che ti ha fatto la natura per farti incazzare così? Tante cose. Rispondo sbrigativa, fissando il fastidioso quanto desiderato Ehi di Kate. Maledetta. Può essere più specifica, signorina. Non ho voglia di scherzare. Ma so che se non le rispondo continuerà all'infinito. Mi ha scritto Kate. Ceci alza gli occhi al cielo. Non avevo dubbi. Non dirmi che ci sei cascata di nuovo. Voleva solo un drink. Era una giornata no e... È sempre una giornata no per te, Lene. Non è una scusa. Il suo tono è di rimprovero. Mi fa incazzare. Ma so che è solo preoccupata per me. E questo mi fa incazzare ancora di più. Non importa. Mi sono divertita. Lei anche. Finita lì. Non dirmi puttanate. Lo so benissimo che non è finita lì per te. Non finisce mai lì. Se si tratta di Kate. Sei peggio di mia madre. Ribatto. Mentre mi fisso le punte delle scarpe sporche e rovinate. Non voglio incontrare di nuovo i suoi occhi. Che ti ha scritto? Chiede dopo un po' con tono rassegnato. Ehi. 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 Mi prendo un breve istante per lanciarle un'occhiatina. La sua espressione è a metà fra lo sconvolto e l'indignato. Ma che faccia di... Devo andare. Ci sentiamo domani? Taglio corto. Non ho voglia di ascoltarla mentre inveisce per mezz'ora su Kate. Senza aspettare una sua risposta, inizio a camminare verso la metro, lasciandola lì impalata. Non scriverle! Mi urla dietro. No. Rispondo di rimando senza voltarmi. No che non le scrivo. Mica sono scema. Le ho scritto. Mi sento un'idiota. Perché? Perché? Perché non do mai ascolto alla mia migliore amica? È per questo che esistono. Per dirti che stai facendo una cazzata. Sono stati inventati e progettati per questo gli amici, no? O forse per non essere ascoltati, visto che non ricordo nemmeno una fottutissima volta in cui ho dato retta a un consiglio di ceci. Nemmeno una. Abbiamo fatto una cazzata l'altra notte. Non voglio che Vale lo sappia. Non vediamoci più. Una lacrima bagna lo schermo del cellulare, mentre fisso quello stupido messaggio. Non le ho risposto. Cosa avrei dovuto dirle? Quanto è stronza? Quanto la odio. No. Tanto non è vero. Non riesco odiarla. Nemmeno ora. Sento lo stomaco che mi si stringe. Vorrei non averle mai scritto. La musica è a tutto volume, ma nemmeno la mia playlist preferita riesce a estirpare questo dolore che sale dalle viscere e mi avvolge tutto il corpo. Una, due, tre lacrime cadono sul pavimento sporco e in disordine. Mia madre è di nuovo partita per lavoro. Non ho voglia di rassettare. La mia scrivania. Gli acquarelli sono aperti. Si sono un po' rovesciati su uno schizzo che non ho mai finito. Non ho voglia di disegnare ora. Non ho voglia di trasformare questo dolore in immagini. È troppo, stavolta. Apro Instagram, nella speranza di distrarmi un po'. Voglio perdermi tra le foto. Voglio dimenticare la vita reale. È l'unico modo che conosco. C'è ancora il profilo di quella ragazza aperto. Vorrei uscire. Ma qualcosa mi blocca. Fisso i suoi occhi azzurri. È in compagnia di due suoi amici. Sembrano felici. Sembrano. Ma qui, sui social, niente è mai quello che sembra. Fanculo. Lo faccio. Clicco sul tasto Segui anche tu. Poi appoggio il cellulare sul mio petto, mentre alzo lo sguardo verso il soffitto. Le lacrime cadono, sferandomi le orecchie e unendosi in una piccola pozzanghera sul coscino. E mi addormentò così, cullata dall'eco dei miei singhiozzi.